Tutto il male non viene per nuocere, Darwin uomo e Darwin scienziato. E questo l'intrigante titolo scelto dal professore Maurizio Biondi per l'edizione 2022 del Darwin Day. Alle classi del liceo scientifico Filippo Masci, che tradizionalmente partecipano all'evento, si sono aggiunti infatti una classe di prima media della scuola Antonelli di Pescara, il liceo Major di Pescara e l'istituto Volta. L'obiettivo è quello di far comprendere alle nuove generazioni la teoria dell'evoluzione, la realtà in cui adesso vive l'uomo. Cerchiamo di far conoscere Darwin, far conoscere la teoria dell'evoluzione, far conoscere la realtà nella quale viviamo. In realtà è una scusa per parlare di scienza e ogni anno parliamo di scienza. Quest'anno proprio di Darwin, col professor Maurizio Biondi in Università dell'Aquila, che ci racconterà aneddoti particolari dell'edizione di Darwin per spiegare come è arrivata la sua scoperta straordinaria e come oggi ci condiziona ogni giorno. Non è la specie più forte che sopravvive, né la più intelligente, ma quella che risponde meglio ai cambiamenti. È la citazione che in questo periodo si legge spesso. Per molti questa frase però non è mai appartenuta al papà dell'evoluzione, che riprese dal filosofo Spencer nel 1869, definendola più accurata per spiegare il concetto di selezione naturale. Questi ultimi due anni abbiamo vissuto un periodo veramente terribile con il Covid, questa pandemia che ci ha condizionato in maniera tremenda, e continuiamo a comportarci come se fossero altri problemi. Occorre cambiare strategia e la pandemia ce l'ha detto, occorre puntare al benessere individuale, a un ambiente migliore, salvaguardare la Terra perché noi senza la Terra non possiamo vivere. Ed è inutile che parliamo di conquista della Luna, di Marte e delle Alstelle perché ci vorranno millenni, l'uomo non farà in tempo se prima non salva la Terra.